Ancora una volta una mobilitazione per le terme, una situazione che stenta a risolversi. Ora, quali sono le vostre richieste? Nonostante è stato messo un tassello in più per la salvezza delle terme, mi riferisco alla delibera che è stata fatta dalla Regione, però purtroppo non ci soddisfa in quanto la lungaggine dei tempi che potrebbero far avvivare questi fondi purtroppo sembra che sia lunga. Noi ringraziamo tutti quelli che si sono impegnati, però purtroppo non basta perché probabilmente noi non riusciremo ad aprire a maggio. C'è bisogno solo di una decisione forte e responsabile da parte della commissaria prefettista, la dottoressa Bonadias, che ci venga incontro in un momento difficile per le terme perché rischiamo di chiudere, perché se salta quest'anno non lo so se riusciremo ad aprire il prossimo anno. andiamo lì, ma non lì lo so La posizione della cassa integrazione fa raggiungere un'altra azienda alle aziende in crisi che vischia di chiudere. È la vergogna, cittadini unitevi a noi. Non ne vogliamo più, non ne vogliamo più, non ne vogliamo più, studenti che non cantano più, noi studenti sempre presenti, noi studenti sempre presenti, noi studenti sempre presenti. Un applauso!